Benvenuti, cominciamo con la locandina, vediamo un po', faccio sperire la mia faccia, quasi. Cosa c'è scritto? Paolo Colleoni che è il nostro ospite, il titolo? Al miracolo della Madonna di Sant'Istino. Più se for, più se de usa. Io devo dire io? Eh certo, al miracolo. Al miracolo della Madonna di Sant'Istino. Benissimo, Paolo Colleoni, dottor Paolo Colleoni, commercialista, presidente o direttore, direttore dei teorefirmatici per quanti anni? 26, presidente dell'Ensambre. Quando c'è stata un po' di capacità, dell'economia di sostenere data avanti, poi abbiamo venuto fuori TNT, comunque adesso stanno andando avanti in un altro modo, presidente di un bel gruppo musicale, canoro. Coro musicale, un coro. Un coro che però voglio dire fa anche degli studi approfonditi sugli strumenti, cercando di portare nelle loro stesse. Un repertorio del barocco. Il barocco, ma la cosa caratteristica di questo gruppo è che gli strumenti che suonano e anche le partiture, è la ricerca molto, non dico spasmodica, ma molto curata, sia sulle partiture originali che sugli strumenti originali dell'epoca. lettura dei vari spartiti, delle varie opere. Per cui si capisce perché ha grande successo, riesce a trovare degli sponsor che gli permettono dei concerti grandiosi e quindi piacciono. E quando ci sono questi concerti, sempre pieno. Complimenti, presidente. Grazie. E anche e soprattutto a Massimo Greci. No, ma diciamolo tutto che il presidente è un po' onorifico, ma veramente i complimenti sono da fare a Massimo Greci e a tutti i coristi che sono veramente bravi e sicuramente all'altezza del ruolo. Io mi onoro di essere presidente. Te so come presidente di essere mia. No. Delica. Sapevo, sapevo, sapevo. Ma non c'è rivalità. Non c'è rivalità anche perché noi abbiamo una tipologia diversa, non abbiamo orchestra, ma non è rosa dal punto di vista economico e quindi non devo correre a cercare gli sponsor, anche se un pochettino lo faccio rispetto a voi. Quando si fa cultura gli sponsor sono necessari. Purtroppo, anni duri, anni duri. Allora siamo qui per parlare di questa manifestazione. Ripetiamo il titolo. Al miracolo della Madonna del Santistino. Che è il 28 di febbraio, tutti gli anni, o il 29 negli anni bisestimi. Quella cosa lì mi è sempre sembrata strana. Allora, no, ma il poemetto fa giustizia di questa data perché viene ripreso il fatto che l'ultimo giorno di febbraio si deve celebrare. Ma perché l'ultimo? Perché è ben scritto negli statuti e i consuli di allora scrissero che bisognava rispettare l'ultimo giorno di febbraio. Nel poemetto c'è un accenno ai fatti nostri quando l'amico Zordan pensò di anticipare al 28. Da qui nacque la polemica perché quando l'anno è bisestile, quando si fa la ricorrenza, la rivocazione del miracolo? E di fatto, per convenienza e opportunità, si disse che si può fare anche il 28. Ma negli statuti Treviglio c'è scritto il poemetto. Possiamo dire, poi gli statuti non lo è stato scritto. No. È stato scritto nei documenti. Ma lo si dice anche... Però magari si sono sbagliati perché in quel momento lì era lì, avevamo bevuto un po' di vino. No, no, no. La parola esatta è al de Hülten de Febbraio. Ho capito. Però in quel momento l'essere si erano dimenticati che c'erano gli anni bisogni. Non è possibile che sia una cosa un po' più... Non so, ti lascio il dubbio dell'interpretazione. A me piace quella fatta da Gennaro che è l'autore del poemetto. Allora spieghiamo cosa stiamo facendo, dai. La presentazione di un poemetto che rievoca e celebra i fatti storici di Treviglio. Come diceva... Come era Funari? Telecamera 1? No, qual è la telecamera? Telecamera, vediamo questa. Ecco, vediamo. Ecco questo, lo vediamo adesso. Oppure lo mettiamo di qua, che è meglio. Ecco. Allora, dimmi, dimmi questo libro. Dunque, nasce sicuramente dall'opera dell'ingegno di Erminio Gennaro, che è un grande studioso, che ha scoperto una vena umoristica nel redigere... Anche l'ho sentito il giorno del 28, non mi immaginavo che fosse serio così. Nel redigere... È uno studioso di dichiarata fama nell'ambito bergamasco. È alta anche. E quindi sicuramente serio, rigoroso in tutte le ricerche che fa. Che si è divertito a rievocare i fatti storici coinvolgendo molti personaggi della Treviglio d'oggi, addirittura un centinaio. Quindi bellissimo questo connubio tra storia e vita attuale. Quindi i personaggi che si ritrovano nella storia del miracolo del 1500. Riportati all'attualità. Riportati all'attualità. E' un po' come le commedie dello Zanovello e de Bonfanti. Cioè prende le storie, allora si parla del popolo cattolico piuttosto di qualche altro giornale, del Caldi Carabillier. Cioè si prende una commedia che è stata pensata negli anni 40 e gli si porta a livello dell'attualità. Però io aggiungerei, senza far torto la via letale per carità, alcune specificità di questo poemetto. Sicuramente il coinvolgimento di molti personaggi trevigliosi. Sì beh è tutta un'altra cosa, chiaro. Ecco, è certamente un poemetto letterario fatto molto bene. E c'è una ripresa dei modi di dire del dialetto di Treviglio. Alcuni termini sono sconosciuti anche a contadini che vengono dalle piscine. Dimmi ne due o tre. Ma non so, mi viene in mente perché mi ha colpito. Trei l'era Ancarcos. Ancarcos cosa l'era? È un torsolo. Un torsolo perché... Torsolo delle mela piuttosto che del verano turco. Un torsolo ma la vedo proprio così che il torsolo rimane perché tutto l'altro è stato spolpato. Da chi? Da quelli che arrivavano. Dai veneziani, dei francesi, dagli spagnoli, da tutti. Per cui l'era Ancarcos è un termine bellissimo, poeticamente molto bello e colpisce. Ma poi perché mi vengono in mente altri. Allora come nasce questa storia? Tu sei il coordinatore di questo evento. Sì, no, organizzatore... Perché non abbiamo parlato. L'evento, la data dove? Allora, beh, l'evento è il 9 marzo presso il TNT di Treviglio. Ore 21, in un'oretta, facciamo una lettura in dialetto trevigliese di questo evento. Con chi? Con Luisella Passorici e Bruno Manenti. Sì, è stato nostro ospite. Sì, conosco. Bruno è molto bravo, ma anche la Luisella. Nasce, penso, intorno al 2007, quando Emilio Gennaro, eravamo in contatto per altre cose, mi disse che aveva pronto un qualcosa, ma non sapeva come fare, presentarlo. Dico, ma perché non vai avanti nella storia e non lo termini? Detto fatto, lo compone, lo porta a compimento e porta fuori il poemetto. Quindi già nel 2008 venne fatta la prima edizione al Teatro Filodrammatici. In quel momento direi che è stato di grande soddisfazione per noi portare i trevigliesi un evento storico raccontato anche con punti di larità, punti di grossa soddisfazione per tutto il pubblico. L'abbiamo ripreso poi per i pensionati, perché il dialetto trevigliese è tipico dei nostri anziani. Quindi il poemetto a queste specificità, la ripresa di modi di dire del dialetto, il coinvolgimento di personaggi attuali nel miracolo e riportare il miracolo ai giorni nostri. E poi è scritto dal punto di vista letterario molto bene, per cui ha le tre caratteristiche per far sì che questo poemetto, questa opera, sia veramente gradita e sarà sicuramente piacevole al pubblico che ci verrà ad ascoltare. Abbiamo visto il 28, che è stato fatto due treviglie, nessuno mi ricordo. Due, sì, due tre ottave, due tre ottave da parte dell'autore che ci ha dato carta bianca, sapendo che per esigenze teatrali a volte bisogna tener conto del tempo, delle modalità di presentazione, per cui grazie a Emilio Gennaro, ma sicuramente un merito lui, perché ha fatto veramente una cosa che... Questa è stata apprezzata anche. Apprezzata, ma rimarrà nella storia di Treviglio, perché questo collegamento non può essere dimenticato quando viene scritto in questo modo ai giorni nostri. Certo, certo. Un conto scrivelo nel momento in cui avviene, dove si dubita che alcune cose possono essere state interpretate. Altro fatto è scrivelo ai giorni nostri. E quindi ripetiamo l'appuntamento, poi volevo parlare del tuo babbo, ma il tuo babbo perché avendo scritto il tuo babbo, volevo anche ringraziarti pubblicamente, non avevo più avuto occasione, Paolo Colleoni, figlio del senatore Colleoni, Aurelio Colleoni, forse è stato il primo senatore di Treviglio dopo quella. Sì, l'ho fatto il primo parlamentare, poi il senatore. Prima il diputato, poi il senatore. Era un partigiano, lavorava alla Dalmine. E a un certo punto, quando mi è venuto in mente, perché stavo facendo un libro sulla famiglia, poi invece è venuto fuori l'episodio del 25 aprile, è venuto fuori un altro libro, Una tragica primavera, e ho avuto due elementi molto importanti per fare questo libro, se non probabilmente non sarei riuscito a farlo. Uno era la traccia di Rindovilla, che erano i suoi ricordi, segretario del partito fascista, che però era uscito nel 1943, quando c'è stato le dimissioni che hanno cacciato Mussolini, ottobre, mi ricordo più la data, e poi ho continuato a parlarne, ma si capisce che è coinvolto emotivamente, però con una certa obiettività, partecipazione agli eventi emotivi. Però le date, le persone, le cose, e quella è stata una traccia importante. Però dalla parte dei fascisti, per bene, tra virgolette. Che peraltro è una storia che bisogna anche ascoltare, secondo me. Ma peraltro, vabbè, al di là di certi eccessi che ho visto nei testi, nel senso che parteggiava per certe cose che magari erano eccessive, però nei contenuti, nella storia c'era. E l'altra storia vista dall'altra parte, che era quella che hanno costruito i figli su documenti, mi sembra poi Gennaro sempre, sempre. Gennaro, perché il contatto con Gennaro venne in occasione della pubblicazione del libro su mio padre, e da lì che è nata poi la storia del Poi Metto. Ecco, 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 quindi c'era un collegamento. A un certo punto, io e lui che siamo amici da sempre, anzi, ma forse mi è cambiata la vita, dopo ti racconto velocemente. Per un minuto che era tu a Capodanno, una notte, e per aver parlato con te, ho perso una fidanzata. Forse è stata una cosa buona. Lo devi dire tu, perché perdere fidanzate, a volte è un bene, a volte è un male. Ho detto che è stato un bene. Senti una cosa, e incontro lui, e gli racconto questa cosa, e mi dice, ma sai che noi abbiamo fatto un libro, tra l'altro io probabilmente ero via in quel periodo, non mi ricordavo. Sì, ma l'interviglio non è che sia stato messo in vendita. E allora mi dice, c'è un libro che è stato fatto, ricostruito, tra l'altro i documenti del papà, di tutta la storia, dei partigiani, lui era partigiano cattolico. Partigiano cattolico. Capo dei partigiani cattolici nella pianura. Comandante della Brigata di Dio, che fu ucciso dai repubblichini in Valdossola. ed ha quelle due ricostruzioni pronte, la traccia per poi inserire le testimonianze di coloro che erano ancora vivi, che hanno potuto raccontarmi, oppure attraverso altri libri, e quindi lo ringrazio. Noi ero venuto a casa tua per parlare di questa cosa così, ero venuto a compleanno, noi a compleanno, all'ultimo dell'anno, con una ragazza, e tu, o tuo fratello, che era già allora, era la politica, anche se avevamo vent'anni, avevamo del ballo. Sì, ma l'avevamo nel sangue tutti e due. E allora mi sono fermato, prima da tecare il capotto, è arrivato un amico, ha fatto ballare questa ragazza, e poi io ho sposato un'altra persona, qualche anno, molti anni dopo. Vedi, queste cose qui, mi parli di politica, cambia la vita di una persona, nel bene, nel mai, chi lo sa. La politica ci ha accomunato su spazi diversi, però ci ha accomunato, perché tu hai fatto le tue battaglie, e anche io ho fatto le mie battaglie. Però dopo la fine... Vabbè, abbiamo 70 anni passati, tu sei un paio di anni più giovani, tu non è 70, tu? Eh, più o meno. Vabbè, stiamo lì, io in 72, e vabbè, se devo fare un bilancio, sono anche con te, dai. No, io penso che nella vita quello che conta è importante dare il proprio contributo. Poi che sia da una parte o dall'altra, secondo me poco importa. Ognuno nella vita deve fare la sua parte. Ma dai, abbiamo sempre cercato di fare delle cose per bene, con buona fede. Poi te abbiamo sbagliato tante volte e ci hai aiutato anche a crescere. Paolo, grazie. Grazie a voi dall'ospitalità. Bocca al lupo per la vostra serata, spero di esserci. Ma invitiamo te, invitiamo tutti. Ma le registrano, non le registrano? No, è impossibile, perché hai detto prima che la ricerca di fondi nei fatti culturali è importante. Allora, vabbè, comunque cercheremo di esserci, naturalmente voi ci dovete essere per forza. Grazie. Grazie Paolo, in bocca al lupo. Arrivederci. Grazie, grazie. Arrivederci.